Si è svolto ieri a Palermo un incontro tra il sindaco De Luca, il vice sindaco Mondello, il presidente di ATMSPA Campagna e l'assessore regionale trasporti Marco Falcone, accompagnato dal dirigente generale del dipartimento trasporti Fulvio Bellomo e il dirigente del servizio 1 Dora Piazza. Nel corso della riunione è stata affrontata la questione dei maggiori contributi pari a circa 10 milioni di euro per il periodo 2013-2016, dovuti dalla regione da ATM, a seguito della recente ordinanza del Tribunale di Messina sul tema, l'assessore regionale ha dichiarato di voler verificare la possibilità di dare esecuzione all'ordinanza, ferme restando le valutazioni dell'Avvocatura di Stato, in merito all'eventuale impugnazione della stessa. Analogo impegno è stato assunto in merito ai circa 3,5 milioni di euro ulteriori, che la regione ha cautelativamente trattenuto sui contributi dovuti ad ATM, in seguito al rinvio a giudizio di alcuni dirigenti della stessa azienda. Poi conclusosi con l'assoluzione di tutti gli imputati che è un formula piena. Sempre ieri, ufficializzato l'arrivo di circa 17 milioni di euro per realizzare parcheggi nel comune di Messina. I parcheggi di interscambio andranno ad integrare e supportare il sistema del trasporto pubblico locale, varato dall'amministrazione De Luca.